Buongiorno a tutti, oggi vi ho preparato due varianti. Andremo con entrambe le varianti a vedere le risposte dai miei due mazzi di tarocchi e di oracoli. Quindi vedremo prima una situazione generale con i tarocchi e dopodiché andrò ad aggiungere un consiglio da parte degli oracoli per ciascuna variante. Vi chiedo di scegliere, ma prima vi ricordo che io faccio uscire un video ogni giorno alle ore 8 di sera, quindi alle ore 20. Potete trovarmi anche su Instagram come Black Rose Tarots, vi metterò qua sotto nell'info box il nome del profilo Instagram e il link diretto. Ora vi chiedo di scegliere una variante, quindi di focalizzarvi su quello che è la vostra centratura, prendere un bel respiro e scegliere con l'intuizione e non con la mente razionale. Quindi sgombrate i pensieri. Se avete bisogno di più tempo mettete pure in pausa il video e io procedo subito con la variante 1. Variante 1. Spirale di acciaio. Vediamo un po' che cosa hanno da dirti gli oracoli, eh scusami, i tarocchi. Sappi che questi tarocchi qui sono molto molto schietti, non hanno veramente peli sulla lingua, quindi potranno darti anche dei messaggi che magari sono un po' forti, ecco. Però lo fanno per darti una direzione, diciamo svegliarti in un certo senso su alcune cose, quindi è positivo. Allora abbiamo il giudizio, la giustizia, la ruota di fortuna al contrario, la luna al contrario, il tre di denari, poi il re di bastoni e il mago al contrario. Sul fondo del mazzo abbiamo la morte al contrario. Allora, come stesa generale, quello che posso dirti come energia generale è che abbiamo un momento nel quale ti si presenta una sorta di cambiamento molto molto drastico e molto difficile anche secondo te, secondo la tua concezione della vita e secondo quelle che sono le tue paure. Probabilmente si tratta di un cambiamento molto molto grande che va a prendere una parte della tua vita, quindi potrebbe essere nel campo amoroso, nel campo lavorativo o nel campo proprio relazionale, economico insomma, qualsiasi cosa questa sia, e tu lo sai, è un cambiamento molto molto importante. Infatti, quello che vedo che sei terrorizzato è che non riesci a muoverti in un certo senso. E la carta della morte al contrario mi dice che purtroppo tu stai resistendo a questo cambiamento, quindi stai resistendo al flusso naturale degli eventi che l'universo ti ha portato e ti sta portando e che quindi vuole far avvenire proprio per cambiare qualcosa nella tua vita in modo che tu possa andare verso qualcosa di meglio, insomma. Questo atteggiamento purtroppo può portare, diciamo, a delle complicazioni perché quando noi andiamo con il flusso dell'universo quindi anche attraverso i suoi cambiamenti, attraverso appunto le cose che a volte ci spaventano o magari staccarci da qualche attaccamento, l'universo ci aiuta, ci aiuta perché ci manda degli aiuti ci manda magari delle persone disposte ad aiutarci piuttosto che situazioni, ci aiuta. Mentre quando resistiamo questo cambiamento, questi cambiamenti, comunque il flusso dell'universo quello che succede è che ci si complica tutto in maniera esorbitante, infatti l'universo per farci ritornare sulla via corretta perché poi è la nostra via e poi l'universo, la via dell'universo è quello che va in concomitanza con la gioia, con la nostra gioia quindi seguire la gioia è sostanzialmente l'ago della bussola che ci porta sempre verso la direzione giusta quando l'universo vede che noi resistiamo al flusso, cosa fa? Ci manda una sorta di avvertimenti che diventano sempre più grandi, sempre più dolorosi anche purtroppo fino a portarci proprio a risvegliarci in un certo senso quindi quello che ti sta succedendo è che tu in questo momento sei in fase di resistenza il giudizio come apertura della stesa mi dice che probabilmente c'è proprio una sorta di situazione nella quale tu hai dovuto aprire gli occhi perché magari fino a poco fa sei stato come dire o stata con gli occhi chiusi non con la capacità di vedere veramente con gli occhi della verità che cosa stesse succedendo magari ti sei mentito da sola, hai mentito te stesso, te stessa per tanto tempo per quanto riguarda una relazione, per quanto riguarda un luogo di lavoro delle dinamiche appunto che avvengono su un posto di lavoro oppure anche per quanto riguarda magari delle relazioni familiari o anche amicali quindi assolutamente potrebbe essere che da quello che vedo come dire, tu abbia portato avanti per tanti anni una sorta di storia che ti stavi raccontando e che anche le persone intorno a te che facevano parte di quella situazione ti aiutavano a raccontarti che andava un po' a sminuire quelle che erano magari i tuoi malesseri all'interno di quella situazione quindi magari andare a dirti che questa cosa non era così grave che queste persone non si comportavano così male con te come tu invece credevi diciamo, in qualche modo ti convincevi da solo o da sola a rimanere in quella situazione nonostante dentro, in profondità di te, tu stessi male questo è quello che vedo infatti poi cos'è successo? è arrivata la giustizia che con ora non so se fosse una un qualcosa che le persone intorno a te hanno fatto comunque un evento è arrivato qualcosa, un evento una situazione, una circostanza una parola magari che ti ha fatto capire anche proprio qualcosa di eclatante potrebbe essere questo lo sai tu ecco, in questo senso questa cosa che è successa o anche solo una tua apertura di coscienza magari hai semplicemente visto qualche video che ti ha aperto gli occhi hai acquisito delle informazioni magari anche tramite dei libri o parlando con qualche persona che ti hanno aperto gli occhi che ti hanno fatto svegliare da questo torpore nel quale sei stato sei stata appunto diciamo imprigionato per per tutto questo tempo ok? quindi quello che è successo è che appunto hai visto adesso finalmente hai visto che si trattava di tradimenti tradimenti potremmo parlare veramente della coppia quindi potrebbe essere che nella tua coppia ci fosse una terza persona e tu non lo sapevi ma ti continuavi a dire magari di essere tu il paranoico la paranoica che si faceva troppe pippe mentali perdonami il termine però hai capito invece veramente poi hai scoperto che c'era qualcuno oppure se stiamo parlando del campo lavorativo potrebbe trattarsi di preferenza da parte del capo oppure delle ingiustizie da parte di qualche figura che lavora con te possono essere colleghi possono essere anche i capi magari un capo che faceva le preferenze appunto verso un collega e non verso di te o comunque appunto non vi vedeva non vi trattava nello stesso modo quindi non vi metteva sullo stesso piano oppure potrebbe essere che in famiglia ti sia sentito o in amicizia ti sia sentito tradito in un certo senso che il tradimento può essere può essere fatto anche non necessariamente in campo amoroso un partner ma anche un amico può tradirci anche un collega può tradirci magari facendoci qualcosa alle spalle o parlando di noi alle spalle o un capo o un familiare anche può tradirci anche solo non ascoltando e non validando bene come si dovrebbe fare come noi vorremmo come noi sentiremo il bisogno le nostre emozioni anche non validare le emozioni è un tradimento anche non non dare aiuto quando si vede una persona in difficoltà è un tradimento quando magari si era promesso di esserci ok un tradimento può essere veramente in qualsiasi campo in ogni caso quello che vedo è questo quindi successivamente ho la ruota la ruota di fortuna però che al contrario e questo mi indica che in quella situazione tu hai capito che che le cose non potevano andare più così cioè ripeto il perdonami le macchine in strada comunque hai visto che veramente veramente se rimanevi in quella situazione avresti soltanto sofferto e giustamente mi viene da dirti hai capito bene perché era così che non potevi andare avanti no progredire nel tuo percorso spirituale non potevi stare meglio e andare verso la tua felicità perché appunto la ruota di fortuna al contrario mi indica proprio che hai dovuto rivalutare tutto ciò che era stato finora insieme al giudizio e alla giustizia hai dovuto diciamo sovvertire l'ordine di quello che avevi pensato di queste persone di questa situazione finora e vedere la verità naturalmente la realtà fa malissimo fa molto male perché questa realtà poi presuppone che tu debba poi staccarti cioè se noi ci svegliamo vediamo che non è più come noi non è mai stato magari neanche come noi credevamo la cosa successiva da fare al realizzare questo è cambiare strada quindi quello che adesso tu stai resistendo purtroppo è proprio questo cambiare strada e per questo la morte al contrario stai resistendo il cambiamento drastico che dovresti dare il taglio netto magari che dovresti dare a questa situazione o a queste persone cioè insomma queste relazioni con queste persone tu adesso sei fermo lì o ferma lì vedo che con la luna al contrario tu comunque vedi chiaro molto chiaro quindi probabilmente è successo proprio qualcosa che ti ha fatto capire bene che cosa stava succedendo oppure hai acquisito delle informazioni tali da aver inquadrato la situazione perfettamente può essere che le informazioni ti giungano da ogni dove cioè può essere un video di youtube può essere un libro può essere parlare con una persona può essere che ne so un film che interpretiamo in un certo modo e capiamo delle cose e sappi che non arrivano mai così non arrivano mai per caso le informazioni se ci arrivano delle informazioni è perché stanno parlando della nostra vita in un certo senso come questi video la stessa cosa quindi se hai recepito delle informazioni sappi che probabilmente appunto sono quelle giuste se ti stai chiedendo non so ma veramente stanno parlando della mia situazione questa informazione che ho trovato su un video se la senti risuonare ma non vuoi vedere che ci risuona perché ti fa paura la conseguenza perché sai che se poi dovessi vederla così dovresti lasciare tutto dovresti andartene sappi che invece probabilmente è proprio così e la tua paura non vuole fartelo vedere perché sa che dopo quello che dovresti fare le conseguenze che dovresti prendere in considerazione magari ti spaventano ma quello che mi dice è questo non ti fare spaventare adesso andremo a vedere poi anche con gli oracoli un consiglio su come fare proprio per andarti a distaccare per andare a proprio verso questo cambiamento invece perché probabilmente è quello che devi fare ed è imminente io ti dico una cosa ovviamente tu hai il libero arbitrio il libero arbitrio l'universo non te lo toglie ma sappi che esercitando il libero arbitrio puoi scegliere solo se essere felice o essere triste perché se vai verso la tua gioia l'universo ti aiuta ripeto se invece vai verso la tua verso la resistenza insomma l'universo purtroppo ti manda dei segnali ti continuerà a dire all'infinito guarda che devi andare verso quell'altra strada quindi scelta tua ma tu stai solo scegliendo se essere felice o triste io vedo che questa con questo tre denari vedo che hai una situazione mentale che purtroppo ti crea dei problemi al momento cioè non sei stabile mentalmente non stai bene non sei incentrato non sei incentratura non riesci ad avere un tuo equilibrio una tua pace interiore un tuo benessere assolutamente perché questa situazione ti aveva stato giustamente quindi in questo momento stai così c'è una persona che potrebbe spiarti potrebbe magari proprio facendo parte di questo contesto che stai cercando di abbandonare quindi magari questa relazione che sta finendo magari non so qualcuno nella famiglia da cui sta cercando di staccarti qualche amico invidioso che da cui sta cercando di staccarti o anche proprio i colleghi o i capi di lavoro a volte lo fanno potrebbero spiarti sui social network o su proprio dal punto di vista anche delle relazioni perché a volte basta semplicemente andare da degli amici comuni a chiedere informazioni su di noi e potrebbe essere anche così potrebbe essere anche che ci sia una persona che ti stia seguendo spero di no nel senso che proprio per pochi di voi questa cosa mi sembra possibile non per tanti che stanno ascoltando però potrebbe essere che qualcuno da questa carta ti stia magari non so facendo qualche postamento sotto casa o cose del genere attenzione insomma ti danno un monito su questo non è che nessuno stia guardando quello che fai anzi no non è così quello che mi dice in più con queste due carte è che hai perso completamente grazie a questa situazione grazie a causa di questa situazione la passione la passione dentro cioè potrebbe trattarsi vabbè di passione sessuale o anche di passione proprio creativa di passione per la vita di curiosità per la vita questo è molto molto brutto perché è una delle cose più brutte che possa succedere a una persona quindi ancora di più io ti invito a prendere in considerazione l'idea di tagliare i rapporti con questa situazione o con queste persone perché ricordati una pianta non può sopravvivere in un terreno pieno di parassiti devi trapiantarti e so che è doloroso perché magari per un periodo dovrei stare con le radici all'aria però è necessario perché se no sai già per certo che ci muori lì e non sto parlando di morte fisica ma sto parlando di morte lenta psicologica e purtroppo psichica energetica ma non credere perché questo tipo di morte giorno per giorno lentamente purtroppo quello che fa è poi anche portare dei problemi fisici c'è un video che ha fatto una youtuber che si chiama Vappole metto il link al video nell'info box questo video ti spiega esattamente tutte le conseguenze che potresti avere a lungo termine continuando a stare in una relazione tossica o in un contesto tossico lei parla proprio anche di arrivare purtroppo a delle conseguenze fisiche ammalarsi di malattie perché tutto ciò che arriva dalla cioè tutto ciò che si manifesta nella materia quindi nel corpo purtroppo prima parte da qualcosa di energetico quindi da qualcosa di diciamo qualcosa che sviluppiamo prima nella sfera energetica nella sfera dell'anima psicosomatica ok quindi attenzione attenzione a questa cosa non sottovalutare la pericolosità della situazione nella quale tu sei stato finora se si tratta di lavoro tu dirai beh ma come faccio a sopravvivere senza il lavoro ma come fai a fare il lavoro che stai facendo senza la salute come fai a sopravvivere senza la salute capisci anche tu che è meglio mettere prima la salute e se anche adesso tu non vedi gli effetti credimi a lungo termine potresti risentirne di salute purtroppo quindi questo è quello che il tuo inconscio sta cercando di dirti se magari scalpita e vuole essere ascoltato attenzione perché la salute e la sopravvivenza sono le cose primarie dopodiché viene il lavoro viene viene appunto la parte economica e non ti credere che se tu non avrai come dire cibo per mangiare ma non pensarla così tragica subito ma se dovessi succedere tu pensa a questo la psiche ha qualcosa che ha un meccanismo che la fa sopravvivere quindi tu con il meccanismo di sopravvivenza comunque riuscirai non dico quando arriverai a quel punto no perché credimi funzionerà molto prima riuscirai assolutamente ad entrare in una situazione in cui devi sopravvivere quindi riuscirai a trovare magari un contesto di lavorativo diverso migliore delle persone che ti possono aiutare credimi qualcosa succederà e ricordati questo anche che l'universo se tu te ne vai dalle situazioni che ti stanno facendo del male ti aiuta ti manda le opportunità ti manda un nuovo lavoro ti manda degli aiuti economici ti manda cioè nel senso ti manda delle persone che ti aiutano ti manda le persone giuste ti fa incontrare le persone giuste ti fa incontrare proprio i contesti le situazioni giuste perché vede che stai andando nella direzione giusta quindi perché dovrebbe mandarti dei moniti o comunque delle cose che ti facciano diciamo cioè degli schiaffoni morali perché tanto ormai sei sulla strada giusta quindi anziché fare questo ti aiuta con il bagazzo al contrario infatti vedo che quello che ti sta succedendo è che stai perdendo i tuoi poteri passami il termine quello che intendo con poteri è proprio la tua potenza di vita cioè la tua potenza animica il tuo essere vivo nel mondo il tuo avere tante possibilità perché purtroppo ti devo dire un'altra cosa sappi che finché rimarrai in questa situazione e non ti toglierai andrà sempre peggio quindi immaginati se già è difficile ora magari staccarti da questa situazione immaginati anzi non parlo no scherzo immaginati quanto potrebbe essere difficile tra un anno due magari con molti problemi in più magari con la capacità psichica più debilitata perché appunto le situazioni abusanti e tossiche portano a una debilitazione psichica quindi con le risorse mentali dimezzate quanto può essere difficile staccartici dopo so che è difficile non sto dicendo che sia una bazzecola staccarsi da questa situazione ma se non lo fai adesso sarà sempre più difficile quindi qui ho un monito adesso andiamo con gli oracoli a vedere che cosa ti consigliano nel concreto di fare e che che cosa che cosa ti dicono riferito al tuo cambiamento sapevo che usciva questa carta grandi e felici cambiamenti e poi no allora è uscita la carta di grandi e felici cambiamenti quindi i cambiamenti che devono avvenire nella tua vita sono grandi e soprattutto sono felici quando avrai avuto il coraggio di farlo credimi che ti guarderai indietro e ti dirai ma cavolo pensa se non pensa se non mi mobilitavo pensa se non cosa cosa sarebbe successo ma grazie grazie che ci sono riuscito riuscita perché adesso finalmente posso avere tutto questo e so che non lo vedi ancora ma quello che il messaggio dell'universo è proprio questo il no mi è uscito perché il tuo blocco è veramente 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 grande tu stai resistendo a questo cambiamento con le unghie con i denti ti stai attaccando a quello che hai ancora con le unghie con i denti no no non è puoi farlo perché il tuo libero arbitrio non sono qua per dirti di non farlo ma sono qui per dirti che se tu scegli questa strada che stai scegliendo adesso non potrai avere purtroppo altro che infelicità che sofferenza perché perché non è la tua strada ma tu neanche ti meriti questo tu ti meriti di essere felice ti meriti di stare bene ti meriti di andare verso la tua gioia e so che è un'incognita al momento so che magari non vedi non vedi ancora le come dire non vedi niente davanti a te vedi il vuoto il nulla ma a volte dobbiamo buttarci nel vuoto con completa fiducia nell'universo e forse è questa proprio la tua prova la prova che tu devi superare devi dimostrare all'universo che ti fidi di lui e vedrai che non ti deluderà credimi ok adesso voglio andare a chiedere ancora un paio di carte agli oracoli già ti hanno dato un indizio quindi in realtà guardando questo interattivo vabbè ragazzi gli interattivi sono interattivi non è come fare dei consulti privati per carità però sono già secondo me in realtà sono molto molto utili perché tu le attiri con la legge di attrazione quindi se hai attirato questo interattivo significa che tu non puoi più in realtà di stare in quella situazione dentro di te stai male vorresti solo avere il coraggio di fare questo salto e infatti questo interattivo mi dà per te questo indizio non è che c'è il vuoto di fronte a te totale lo vedi tu adesso ma sappi che dietro a questa nube questo vuoto ci sono grandi e felici felici cambiamenti in realtà questo è il messaggio che io ti dovevo portare oggi perché probabilmente non lo vedi quindi bisogna qualcuno magari te lo dicesse ok ascolta la tua intuizione la tua intuizione si sta urlando veramente a squarciagola scappa scappa mettiti in salvo non è vero ecco ascoltala perché guarda che l'intuizione è il pensiero l'intuizione è il pensiero cosciente i pensieri diciamo mentali che abbiamo ogni giorno costantemente in realtà non sono altro che delle assunzioni che abbiamo fatto durante la nostra vita quindi magari dai parenti dagli amici dalla società dai film dalla tv qualsiasi cosa il pensiero nostro vero della nostra essenza è l'intuizione ascoltala sì è una conferma ascoltala la tua intuizione e poi come ultima carta chiedi aiuto ai tuoi angeli non so se credi negli angeli nell'universo probabilmente magari sei una persona anche che a volte tende ad essere un po' scettica questo lo vedo risuonare per alcuni di voi che stanno ascoltando per altri di voi vedo che invece sapete sapete che cosa insomma sapete che dovete fidarvi potete chiedere aiuto ma è molto importante in questo momento che tu chiedi aiuto agli angeli e chiedi aiuto alle forze più alte è molto importante che non credi di dover fare tutto tu chiedi aiuto all'universo è molto importante che tu non credi di dover fare tutto da solo o da sola perché non è così che tu non credi di dover fare questo enorme cambiamento tutto da solo o da sola con le tue forze aggrappandoti con le unghie chiedi aiuto chiedi aiuto agli angeli e quello che mi dicono è che se tu non chiedi aiuto non mandi l'intenzione di essere aiutato quindi non accetti l'aiuto non lo chiedi non ti può arrivare non ti possono aiutare quindi chiedi aiuto rivolgiti alle energie più alte chiedi aiuto esplicitamente proprio chiedendo attenzione a quello che chiedi perché poi dobbiamo essere positivi anche nel linguaggio chiedi aiuto e informati su come comunicare con l'universo chiedi aiuto per ottenere un aiuto insomma in questo cambiamento perché perché non devi fare tutto da solo o da sola possono anche muoversi questi aiuti possono arrivare sotto forma di circostanze che si muovono persone con le quali entri in contatto eventi che succedono tutte queste cose tutte queste cose sono assolutamente aiuti sul fondo del mazzo ho infatti fidati direi che con queste due carte abbiamo un messaggio molto importante tu non ti fidi abbastanza dell'universo quindi dovresti cercare di avere più fiducia in te stesso te stessa e nell'universo perché il salto che devi fare è grande sì è doloroso sì ma non ti credere di essere da solo o da sola anche se magari intorno a te non c'è nessuno non ti credere perché l'universo ti prende per mano e ti guida soprattutto se stai andando nella sua direzione l'universo ti aiuterà sempre fidati fidati e chiedi aiuto agli angeli chiedi aiuto all'universo ok io ti ringrazio se ti è piaciuto il video lasciami un like così mi aiuti a supportare il canale e poi se non sei ancora iscritto iscriviti qua sotto perché puoi avere ogni giorno il mio video sulla home quindi visto che faccio video ogni giorno magari ci sono altri messaggi per te che devono arrivarti e in questo modo appunto continuare ad avere un contatto con il mio canale continuerai a ricevere i messaggi che ti voglio portare ok ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao allora variante 2 tu hai scelto la spirale di legno andiamo a vedere prima con i tarocchi una tua panoramica della situazione e poi con gli oracoli andiamo a vedere qualche consiglio abbiamo il 5 di coppe allora dicevamo 5 di coppe solitamente questi questi tarocchi sono un po' schietti eh te lo dico se è girata la carta abbiamo il papa al contrario la forza ok poi abbiamo il carro al contrario il lasso di spade al contrario diciamo così l'asso di coppe e due o due carte perfetto il 4 di denari e il 5 di spade sul fondo del mazzo 9 di coppe allora quello che vedo da questo da questa stesa è che tu stai lavorando al momento nel tuo energia generale sul tuo percorso spirituale quindi sul tuo cambiamento sulla tua introspezione tu stai lavorando tantissimo su quelle che sono le tue ombre quindi stai facendo shadow work stai andando a portare luce su quelle che sono le tue i tuoi traumi i tuoi problemi che magari puoi aver avuto nell'infanzia li stai risolvendo li stai andando a curare quindi complimenti perché questo è già uno stadio di consapevolezza molto evoluto capire che abbiamo avuto dei problemi magari nell'infanzia appunto magari anche in altre vite e andare a a lavorarci è molto molto importante quindi complimenti per questo quindi questa stesa tratterà proprio di questo argomento di te e con il 9 di coppe ti posso anche dire che secondo me stai facendo un buon lavoro il 5 di coppe mi dice che tu hai subito una separazione da una persona potrebbe essere un partner un marito un fidanzato una persona che comunque per te è stata molto molto importante è stata una persona che ti ha segnato in un certo senso prima ti ha fatto capire che cosa voleva dire essere innamorati davvero e però purtroppo poi si è rivelata essere una persona che ti ha tradito potrebbe essere stato un tradimento fisico o anche un tradimento semplicemente emotivo le persone ci possono anche gli amici ti possono tradire quindi potrebbe essere un tradimento anche solo di non accettare non aver accettato la tua di non accettare appunto la tua vera natura di non apprezzarti di non accettarti di non di volerti cambiare anche questo è un tradimento della persona dell'anima della persona quindi assolutamente potrebbe essere stato così infatti quello che vedo è il papa al contrario il papa al contrario in questa stesa in questo mazzo vicino al 5 di coppe alla forza in mezzo mi vuole proprio dire che è stata una persona che ti ha fatto molto del male anzi potrebbe essere anche che sia stata una persona tossica quindi magari una persona che voleva diciamo sfruttare il tuo amore per avere semplicemente del nutrimento egoico e in un certo senso utilizzarti come una sorta di trofeo magari da mostrare agli amici ai parenti oppure del quale vantarsi avere comunque dell'approvvigionamento più che ricambiare questo tuo amore però appunto quindi questa questa relazione non è andata a importo questo mi sta dicendo anche il papa al contrario però io vedo che tu hai tirato fuori gli attributi hai tirato fuori la forza hai tirato fuori hai tirato fuori proprio la tua essenza quindi hai finalmente tirato fuori quella che era la tua parte anche più aggressiva che appunto voleva aiutarti voleva salvarti voleva proteggerti da questa relazione quindi hai fatto probabilmente quello che tu hai già fatto nel tuo lavoro spirituale e come dicevamo prima appunto nel tuo shadow work è proprio quello di entrare di nuovo in comunione e lo stai ancora finendo di fare con la tua parte più protettiva quindi con la tua parte più più aggressiva diciamo no la tua parte che stabilisce i confini vedo che hai stipulato un bellissimo rapporto con questa parte di te infatti questa parte di te adesso è diciamo il tuo servizio non è più contro di te non ti sa vota più ma adesso riuscite a collaborare quindi quando magari avevi uno screzio con qualcuno prima tendevi a aggredire quella persona e quindi per quanto la situazione a volte possa essere comunque brutta o tossica o denigrante o comunque abusante nei nostri confronti aggredire purtroppo non è mai una soluzione proprio perché passiamo noi anche se magari siamo quelli che sono abusati dalla parte del torto e non riusciamo a risolvere niente quindi quello che faceva prima questa parte di te era proprio andarti un po' a sabotare in un certo senso quindi andare a aggredire magari le persone quindi poi di conseguenza sentirti dire che tu eri quello che era irrasciibile eccetera quando in realtà tu stavi soltanto cercando di proteggere adesso che tu hai lasciato finalmente da parte alcune resistenze che avevi quindi magari le credenze limitanti sul fatto che tu hai sempre pensato che questa parte fosse maleducata troppo aggressiva eccetera invece non è così perché appunto ti vuole proteggere tu hai capito che dovevi essere più cioè dovevi ascoltarla quindi è un suo alleato e lei è diventata tua alleata avete fatto finalmente comunione tu e questa parte questa parte di te adesso è con te finalmente ti sei riunito con questa parte di te quindi semplicemente hai recuperato un pezzo della tua anima e questo è meraviglioso perché è proprio quello che deve portarci il nostro lavoro spirituale è un importantissimo pezzo di lavoro spirituale che tu hai fatto per questo che mi diceva appunto che il tuo lavoro spirituale sta andando molto bene con il 9 di coppe ora ho capito il perché anche io che ti ho detto il valore di questa carta il carro al contrario però purtroppo mi evidenzia un blocco perché nonostante tu abbia già fatto questo grande lavoro quello che succede è che purtroppo è come se tu non riuscissi ad avanzare cioè ci sono altre cose che appunto devi andare le prossime cose su cui dovrai andare a lavorare nel tuo shadow work nel tuo nel tuo shadow work appunto di del lavoro spirituale che ti stanno ancora un pochettino trattenendo ti stanno ancora un po' bloccando quello che vedo è che tu guarda ti può dare anche un indizio perché abbiamo le carte qua queste due carte qua che ci danno un indizio allora quello che mi dice è che tu non riesci ad avanzare perché hai un blocco dal punto di vista del pensiero il pensiero non è un retto pensiero il tuo cioè non vedi le cose dalla giusta prospettiva dal punto di vista degli affetti dell'amore tu hai un blocco dal punto di vista affettivo è come se dopo questa relazione avessi sviluppato una sorta di come dire chiusura anche se magari sei molto estroverso estroversa come persona non vuol dire niente però avessi accumulato dentro di te una una non fiducia verso il genere umano verso le persone verso anche di te a volte però soprattutto verso gli altri quindi questo ti impedisce di progredire verso quella che è l'abbondanza proprio affettiva quindi l'abbondanza di amore nella tua vita l'abbondanza di persone che ti meritano persone premianti persone che ti vogliono bene persone che ti apprezzano ti validano ti ti aiutano ti supportano ti esaltano nel tuo valore queste sono le persone che tu devi attirare non persone come quelle che hai attirato prima naturalmente ma questo già lo sai e quello che succede è che purtroppo tu hai ancora questa prospettiva sbogliata dentro la tua testa che ti è stata appunto creata da quella relazione o da magari anche tante altre relazioni che poi ti sei reso conto di avere vissuto quando hai aperto gli occhi su quella relazione che ti sta impedendo di vederla correttamente di vedere correttamente la vita sostanzialmente e vedere correttamente gli altri vedere correttamente gli affetti di vedere correttamente le altre persone quindi vederle per ciò che sono vederle per ciò che ti darebbero tu ormai sei convinto in sostanza che nessuno ti potrà mai più dare niente perché tutte le persone che incontrerai sono così non è così non è così anzi quello che mi dice con il 4 dei denari è non sei solo non sei solo non sei assolutamente solo anzi gli angeli questa carta mi parla proprio degli angeli in questo mazzo in questa stesa gli angeli ti stanno diciamo alle costole nel senso che ti stanno aiutando tantissimo stanno con te ogni giorno queste forze molto molto alte eppure sono vicino a te quindi assolutamente affidati a loro se non riesci se non riesci ad aprirti affidati a loro chiedegli aiuto e purtroppo se non chiediamo aiuto a loro cioè se non gli chiediamo aiuto loro non possono intervenire quindi proprio formula l'intenzione di chiedere aiuto formula l'intenzione di essere aiutato da loro questo è molto molto importante loro ti aiuteranno a far cadere tutti quei castelli quei costrutti mentali me lo dice il 5 di spada il contrario ti aiuteranno a far cadere tutti quei costrutti mentali che ti sei creato nella testa o creata nella testa quelle paranoie mi viene da dire un gergo un po' più così no lo chiedere chiameremo così perché quelle veramente sono paranoie non quelle che magari non le intuizioni perché a volte scambiamo le intuizioni per paranoie invece no le intuizioni sono il pensiero corretto quindi se questa persona quando avevi delle intuizioni su di lui ti ha fatto credere che tu fossi pazza che avessi le paranoie e questo penso sia molto molto comune nelle relazioni tossiche quindi ci tengo a farti capire la differenza tra paranoia e intuizione se questa persona ti ha detto questo non è di quello che stiamo parlando adesso le paranoie sono dei costrutti mentali che creano le nostre paure quindi per esempio adesso non aprirti con il mondo tutti quanti sono persone che nessuno può volermi bene nessuno può farmi star bene queste sono paranoie le intuizioni invece sono quando non lo so vorremmo fare vorremmo relazionarci a quella persona però dentro di noi abbiamo quella sorta di no paura cioè non neanche paura quella sensazione no quell'intuizione che ci dice in quella persona c'è qualcosa che non va ecco lì l'intuizione arriva non per bloccarci attenzione ma per metterci in guardia non è che noi dobbiamo necessariamente interrompere il rapporto con quella persona per esempio no dobbiamo semplicemente stare in una situazione in un spazio energetico interno nel quale noi stiamo con quella persona frequentiamo quella persona abbiamo a che fare con quella persona o quelle persone ma nello stesso tempo noi sentiamo che cosa ci sta dicendo l'intuizione è un pensiero critico nostro interno nell'intuizione per cui anche se poi con quella persona magari quella persona si comporta in maniera gentile va tutto bene sembra che apparentemente vada tutto bene noi comunque non siamo scemi e quindi con l'intuizione l'intuizione ci continua a dire ci continua a parlare dentro e dicendoci guarda che non è così guarda che quello si vuole fregare guarda che quello sta cercando di fare quell'altra cosa questa è l'intuizione oppure l'intuizione su cosa dobbiamo fare su quali sono le prossime mosse i prossimi passi su un determinato campo magari della vita i prossimi passi per il nostro obiettivo o qualsiasi cosa ecco queste sono tutte intuizioni queste sono intuizioni quindi probabilmente quando tu eri con il tuo partner e avevi dei sentori su qualcosa magari sul fatto che non fosse una persona della quale potessi fidarti sul fatto che stesse facendo qualcosa che poteva farti del male magari di nascosto ti stava prendendo in giro avessi il sospetto che ti stesse mentendo in quel caso in quel caso probabilmente era intuizione quindi poi le persone la cosa che fa le persone tossiche la cosa che fanno più in assoluto è manomettere cercare di manomettere l'intuizione degli altri perché l'intuizione è qualcosa di infallibile l'intuizione è un'arma che se riusciamo impariamo a gestire è imbattibile ci salva la vita ci salva io ti potrei raccontare di un episodio nel quale la mia intuizione mi ha letteralmente salvato la vita altrimenti non so se sarei ancora qua quindi l'intuizione è veramente qualcosa di di portentoso è lo strumento più potente che abbiamo invece le paranoie purtroppo sono quelle che ci costruiamo da soli quando siamo stati traumatizzati quindi quando magari abbiamo subito un trauma perché abbiamo qualcuno ci ha fatto del male a gratis senza che ne facessimo niente ma quella persona ci ha ferito ci ha fatto tanto male allora magari siamo portati con le persone con le quali poi interagiamo dopo o a non interagire o a giudicarle ma è sempre qualcosa di sottilmente diverso quello che mi dicono le carte è di chiedere aiuto agli angeli perché loro saranno proprio in grado di fare questo di smantellare tutte le paranoie le paure e di mantenere soltanto l'intuizione dentro di te quindi se non ci riesci da solo fallo fare a loro non ti preoccupare fallo fare a loro chiedigli aiuto perché in questo modo potrai finalmente avere una visione chiara e appunto sovvertire il tuo pensiero che in questo momento non ti dà la prospettiva corretta ok allora adesso andiamo a vedere con gli oracoli che sono gli oracoli degli angeli quindi continuiamo questa comunicazione con gli angeli che cosa ti vogliono dire ecco che cosa magari concretamente devi andare a fare che cosa concretamente devi andare a risolvere o a come dire ok si è girata una carta no con il punto esclamativo andiamo a vedere subito che cosa vuol dire andiamo a vedere oh ok sì con il punto esclamativo nel mazzo ci sono quattro carte con sì e no un no con il punto esclamativo e un no senza e stessa cosa per il sì sono uscite entrambe con il punto esclamativo adesso vi spiego il perché chiediamole ancora una eccola qua ok vedi stiamo un po' parlando di rapporti con gli altri quindi allora il sì e il no praticamente cosa vogliono dire sono due energie è un concetto un po' complicato però cerco di spiegartelo in modo più semplice possibile queste queste due queste energie cioè sono due energie il sì e il no queste due energie sono in contrapposizione perché naturalmente apertura e chiusura il sì è un'apertura di una scusami un'energia di apertura il no è un'energia di chiusura cosa fanno dentro la tua mente queste energie quello che ha creato questa persona è che dentro la tua mente queste energie è come se si andassero a scontrare ogni volta che tu devi avere a che fare con una persona che devi avere a che fare con una situazione magari dove devi investire la fiducia queste due energie cominciano a lottare 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 e prima sì e poi no e prima sì e poi no e tu impazzisci giustamente perché sono due poli completamente opposti che anziché entrare in come dire in equilibrio sono come dire il magnetismo di queste due poli è completamente opposto quindi tu oscilli anziché trovare un equilibrio fermati nel mezzo questo è proprio il desequilibrio che ha creato questa persona quindi quello che devi fare è andare a lavorare sui due poli dell'apertura e della chiusura quando ti senti troppo aperto ascoltati perché probabilmente può essere che tu sia troppo aperto allora cerca di stare proprio sul tuo ma comunque di non interrompere le interazioni con le persone quando ti senti troppo chiuso e vedi che non hai magari a che fare con le altre persone come vorresti ascoltati apriti un po' ma comunque mantieni quello spazio interno nel quale tu sei solo e sei con te stesso in questo modo finalmente avvicinerai i due poli fino ad arrivare all'equilibrio centrale che sarà quello che ti permetterà di essere da solo dentro di te costantemente quindi di stare con te di sentirti perché probabilmente tu cerchi la solitudine a volte anche per questo per riuscire a sentirti non riuscire ad ascoltarti proprio perché questa persona ti ha allontanato così tanto da te che è come se ti fossi perso quasi ecco questa centratura ti permetterà di sentirti di ascoltarti ogni giorno e anche di ascoltarti e sentire e stare con te stesso nel frattempo che sarai con altre persone quindi non dovrai più avere paura una volta che riuscirei a fare questo di avere a che fare con le altre persone perché tu sarai sempre collegato a te se tu sarai collegato a te e alla tua parte appunto più intuitiva alla tua parte più vera più no più saggia e quindi l'intuizione tu riceverai continuamente intuizioni anche mentre stai parlando con quelle persone tu continuerai a ricevere intuizioni e questo farà sì che tu sarai sveglio sveglia abbastanza da riuscire a proteggersi e a salvarti anche proprio in corner all'ultimo quando queste persone ti stanno cercando di fare del male tu hai paura di ricadere fondamentalmente in quelle che sono state le dinamiche che ti hanno fatto del male perché sai che sai benissimo che se in quei momenti avessi ascoltato la tua intuizione non ci saresti cascato ok quindi adesso quello che hai paura è di non riuscire a sentire la tua intuizione se dovesse ricapitarti e quindi ondevitare a volte magari non ti apri al mondo però quello che mi dicono queste carte è che se tu riesci a portare equilibrio in questa tua dualità e quindi riesci a trovare una centratura quando sarai con le altre persone ripeto riceverai queste intuizioni molto molto più vivide rispetto a quando hai vissuto quelle situazioni lì in questo caso sceglierai anche oltre al fatto che siano un pochino più vivide però non ci contare troppo deve essere tu che devi andare ad ascoltare quindi oltre a questo tu riuscirai finalmente a girarti a guardarti dentro e a osservare che cosa ti stai dicendo che cosa ti sta dicendo questa intuizione ascoltarla e fare ciò che ti dice ricordati che l'intuizione è una vocina flebile che sussurra dentro di te devi metterti gli auricolari per ascoltarla al momento riesci a ascoltarla a sentirla solamente se c'è silenzio se sei da solo ma se tu ti metti gli auricolari mentre sei insieme ad altre persone la sentirai ma devi volerlo fare devi volerli mettere gli auricolari capisci il paragone perdonami la metafora però almeno cioè io poi sono molto visiva quindi vado meglio con le metafore e penso che si sia capito mettiti questi benedetti auricolari anche quando sei in giro con le persone magari se vuoi ricordati questa metafora ok ricordati quando quando senti qualcosa che non va dentro di te qualcosa che ti puzza quando stai avendo a che fare con qualcuno mettiti questi auricolari come dire metaforicamente e ascoltati vedrai che nessuno ti potrà più fare del male perché ti saprai proteggere e in più sapendo fare questo l'universo che cosa farà ti invierà persone molto utili per te per il tuo percorso per la tua vita quindi persone che ti aiuteranno persone che saranno lì per aiutarti per validarti per volerti bene ora chiedo ancora una carta per te ok intuitivamente mi è arrivato che non c'è più molto che gli angeli ti devono dire quindi probabilmente abbiamo chiesto tutte le carte ok si ne hanno andata solo più una quindi ti danno questo ecco cerca un segno cerca un segno verso quella che sarà la tua prossima tappa e verso quella che sarà semplicemente il tuo la tua direzione prossima ok quindi e se magari hai paura di di stare di nuovo male per esempio guardati intorno guardati intorno e ricordati che l'universo è sempre lì ricordati che gli angeli sono sempre lì che ti vogliono aiutare ricordati che c'è sempre qualcosa di più alto che ti sorveglia e che sta con te e che ti ama e che ti vuole bene cerca un segno quindi cerca un segno che ti ricordi proprio questo non sei mai solo o sola neanche nelle situazioni più terribili non sei mai solo o non sei mai sola cerca un segno che te lo ricordi può essere un fiore può essere veramente qualsiasi cosa e un numero i numeri degli angeli per esempio se li conosci può essere veramente qualsiasi cosa quindi tu sai di cosa stiamo parlando in sostanza e e abbiamo proprio questa proprio questo significato quello che ti sto dicendo ok io spero di esserti stata utile che ti sia servito questo video e se ti è piaciuto ti chiedo di mettere un like così mi aiuti a supportare il canale e poi se ti va puoi iscriverti così tutti i giorni io pubblico un video alle 20 ti arriveranno i miei prossimi messaggi perché magari ci sono tanti messaggi che devi ricevere dalle mie letture e in questo caso appunto potrai potrai riceverli ogni giorno sulla tua home ok io ti ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao